Due cantieri saranno consegnati a novembre, quello in piazza Madonella durato oltre due anni anziché i sei mesi inizialmente annunciati agli esgoccioli. Restituita la piazza restano da sistemare alberi, panchine e illuminazione e da realizzare la fontana con pietre laviche arrivate dalla Sicilia un mese fa. La prossima settimana il montaggio tecnico in marmeria prima dell'intervento vero e proprio. Poi via Argiro, nel tratto tra Corso Vittorio Emanuele e via Piccini dove si stanno riesumando dall'asfalto le chianche. Ottenuto l'ok della sovrintendenza è stata completata la prima delle tre parti. Difficile però si faccia in tempo, il cantiere chiuderà come promesso i commercianti per Natale per riprendere a gennaio. Altri due cantieri per dicembre. Largo Adua, dove dopo lo stop a seguito della morte del titolare dell'impresa e della stipula di un nuovo contratto con un'altra impresa, sarà completata la pavimentazione. E poi piazza Massari, qui tra una decina di giorni, sarà spostata e decentrata l'edicola, resterà chiusa per due giorni per liberare la visuale sulla statua di Piccini intorno alla quale saranno rifatti i marciapiedi. La fermata taxi sarà spostata di qualche metro, già delimitata da strisce gialle. A seguire la correzione degli alvaretti asimmetrici, diventati un caso nazionale, panchine e illuminazione. Bisognerà invece attendere almeno febbraio per il nuovo look di piazza 4 Novembre, sempre sul lungomare, che sarà completamente rifatta dopo essere stata distrutta da Incuria e Vandali. E poi la fine del primo tratto di un chilometro e mezzo della pista ciclabile dal castello alla fiera, e che si congiungerà a quella del quartiere Libertà. Per il teatro Piccini e il ponte sull'asse nord-sud armiamoci di pazienza almeno fino al 2016. Noi abbiamo fatto i nodi al fazzoletto, il comune incrocia le dita e la pioggia la vera minaccia sul countdown.